Invece di dire passaparola dirai di PCM se non sai la parola 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti mi bastano sempre ok vai compresi i preliminari ho preso la cena ho preso la cena compresa la cena le domande le fa Adel il tempo lo tengo io va bene 3 minuti 3 a partire dal jingle il jingle lo riconosci sicuro io non lo sapevo neanche benvenuti alla gira intervista con Max Ann perché qui non usiamo tutto il nostro cognome con la A capitale dove è situato il trono di spade capitale dove è situato il trono di spade a produrire con la B lo stinton di leggendario Barney con la C Steve interprete di Michael Scott l'attore l'attore aspetta ah Steve Carrell con la D progetto scientifico con base sull'isola di Lost l'abbiamo appena questo non lo so tanto non lo so quanto no è DPCM con la I in Boris la segretaria di edizione interpretata dalla Fiorentini Ines no 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 Italia 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 con la L casata dell'Ovest con moto Udite il mio rugito Lannister ok con la M stato in cui abita la signora Fletcher con la M lo stato della signora Fletcher Cabot Cove Massachusetts N Escobar e la dilagante diffusione di cocaina nel mondo ok Narcos con la O il nuovo Black con la P Walter sta a White come Jesse sta a Pinkman con la Q terrorista infiltrato in un'accademia di reclute dell'FBI Quantico molto bene con la R Jennifer Aniston in France con la R R in France Rachel con la S per il maestro Duccio equivale ad apri tutto con la S Marmella bellissimo con la T è la voce narrante della casa di carta è uno dei personaggi quella gran professionista di Tokyo con la U una bambina misteriosa con poteri in quel di Hawking 11 con la V con la V Ragnar si vabbè bravissimo Ragnar rollo e flochi Ragnar rollo e flochi non so vi 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 ah vichighi vichighi vikings vikings strappare lungo i bordi sarà il titolo della sua serie su Netflix su Netflix arriva una serie che si chiama strappare lungo i bordi i bordi che riporta le gesta e i disegni di PCM di PCM ah zero calcare zero calcare zero calcare perché mi sono esattato così tanto con l'acca con l'acca con l'acca unico personaggio di Big Bang Theory che va nello spazio Howard 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 molto bene comunque la mia spi saluta al gusto 19 19 li abbiamo portati a casa applausi ma va benissimo buono buono grazie mi è piaciuto tantissimo in smarmella bravo smarmella vabbè ragazzi o era Masha o era Main è una delle due il 50% ma in chat hanno detto Miami è arrivato pure una scritta che ha detto Miami però non credo che io poi ne ho stato esatto esatto la freccia era bronzata Miami le sarebbe piaciuta le sarebbe piaciuta